Buongiorno ragazzi, continuiamo il discorso iniziato nel video precedente. Parliamo di integrali immediati generalizzati. Vedremo nuove formule rispetto allo scorso video e tanti tanti esercizi. Buona visione! Nello scorso video abbiamo analizzato alcune formule degli integrali immediati generalizzati. Ve ne ricordo due che ci serviranno anche oggi. L'integrale della frazione che a numeratore porta la derivata del denominatore, quindi l'integrale di f' fratto f di x in dx, dà come risultato il logaritmo del modulo di f di x più c. Abbiamo visto sempre nello scorso video anche come ricavare la formula di quest'altro integrale, l'integrale del prodotto di f' per f di x elevato alla n. Questo come risultato mi darà f di x elevato alla n più 1 fratto n più 1 più c. Vediamo altre due formule che derivano direttamente dalla seconda. Io posso avere un prodotto, ma per n minore di 0 posso scriverlo anche come una frazione, f' fratto f di x alla n. L'integrale in questo caso sarà f di x alla meno n più 1 fratto meno n più 1, ovviamente più c. Un'altra formula abbastanza banale che arriva dalla seconda è quando ho un prodotto tra f' e f di x. Ovviamente questo mi darà un f elevato al quadrato fratto 2 più c. c. Vediamone altre due e poi iniziamo a fare finalmente un po' di esercizi. Queste ultime due formule riguardano, e verranno usate tantissimo nelle integrazioni delle razionali fratte, riguardano arco tangente e arco seno. Precisamente l'integrale di f' fratto 1 più f quadro in dx dà come risultato l'arco tangente di f di x più c. Ultima formula, se ho invece l'integrale, una frazione, dove a numeratore ho f' e a denominatore la radice di 1 meno f al quadrato in dx, mi darà come risultato l'arco seno di f di x più c. Perfetto ragazzi, facciamo un po' di esercizi e cerchiamo di utilizzare queste formule per prenderne un po' confidenza. Il primo esercizio, come testo, porta l'integrale di e alla x fratto 1 più e alla 2x rispetto a x. Appena mi ritrovo una frazione, la prima domanda da farsi è se la derivata del numeratore viene il denominatore e in questo caso no. Quindi devo escludere la prima formula. Posso pensare eventualmente a una terza, ma non ho un f elevato tutto alla n, cioè quell'1. Avrei dovuto avere un quadrato di un binomio, un cubo, sono troppo pochi termini. Ma osserviamo che alla 2x, ragazzi, ricordatelo sempre, non è altro che il quadrato di e alla x. Quindi, forse, qual è la formula che a denominatore mi porta una scrittura dove c'è un 1 e un f quadro? Ci siete? Vi voglio far guardare la formula numero 5. Ok ragazzi? Sistemiamo le cose e vediamo se è proprio questa quella che possiamo utilizzare. Se nella nostra formula considero f di x e alla x, l'f di x al quadrato è effettivamente e alla 2x e il nostro f' di x risulta e alla x. Quindi, ragazzi, abbiamo proprio quella formula. Quindi f' fratto 1 più f quadro e nel nostro caso quindi l'integrale di e alla x fratto 1 più e alla 2x mi darà come risultato l'arco tangente della nostra f, quindi di e alla x più c. Ci siete, ragazzi? La parte difficile degli integrali è capire qual è la formula che devo usare. Bisogna fare un po' di esercizi. Consideriamo adesso l'integrale della tangente in dx. Qua non ho una frazione e non ho neanche un prodotto, ma posso pensare alla definizione algebrica della nostra tangente. La tangente io la posso vedere come sen x fratto cos x ed ecco qua una frazione. Ma non è una frazione basta, è una frazione dove sopra ho la derivata del denominatore. In effetti se derivo il coseno di x, la derivata del coseno è meno seno. Quindi basta aggiungere un meno davanti al seno, un meno fuori dall'integrale per poter applicare la prima formula, quindi meno il logaritmo del modulo del coseno di x più c. Ci siete? Ancora, esercizio 3. Consideriamo e elevato all'arco seno di x fratto la radice di 1 meno x quadro. Non spaventatevi, più brutto è l'integrale, più funzioni miste ha, più è semplice. Qui ho una frazione, la derivata del numeratore non è assolutamente il denominatore. A denominatore vedo una bella radice di 1 meno x quadro che mi ricorda l'arco seno e precisamente ragazzi è la derivata dell'arco seno che è 1 fratto la radice di 1 meno x quadro e ricordiamoci che l'integrale è l'operazione inversa. Quindi cosa posso applicare? Posso vedere quella frazione come il prodotto di 1 fratto la radice di 1 meno x quadro per e elevato a una funzione che è l'arco seno di x. In questo modo, qual è la formula che voglio usare? f primo per e elevato alla f che mi dà come risultato e alla f. Quindi la nostra f è l'arco seno e la sua derivata non è altro che tutta quella frazione lì davanti. Ricordatevi che quando una funzione derivata mi cambia piano vuol dire che nel testo la frazione può essere vista come un prodotto. Quindi riscrivendo il testo del nostro esercizio non dovevo modificare niente, dovevo solo riconoscere la formula da usare e il risultato è e elevato all'arco seno di x più c. Procediamo con un altro esercizio. Abbiamo l'integrale di sen x che moltiplica la radice di 1 più cos x in dx. Allora anche qui non ho una frazione o un prodotto. La radice però non c'è in quelle formule col prodotto. Anche qui bisogna ricordarsi che se nelle formule ho le potenze e io ho una radice, la radice di x la posso vedere come una potenza, esattamente come x alla un mezzo. Quindi posso riscrivere il mio integrale per poter cercare la formula corrispondente come il sen x che moltiplica 1 più cos x tutto elevato alla un mezzo. A questo punto il mio un mezzo posso vederlo come un certo n e quindi la mia parentesi è la mia f di partenza. Quindi potrebbe essere questa la formula. Ho un f di x elevato alla n. Se davanti ho la f primo posso dire il risultato. Ricontrolliamo. La derivata di 1 più cos x non è altro che meno sen x. Quindi mi basta mettere un meno davanti al seno e un meno fuori dall'integrale per poter dire che ho proprio la formula f primo per f alla n. Il risultato sarà quindi meno, quello fuori dall'integrale, la mia f 1 più cos x elevata alla un mezzo più 1 fratto un mezzo più 1 più c. Se il testo mi viene dato con la radice conviene riportare il risultato con la radice anche solo per riconoscere che il risultato è giusto quello che trovate sul libro. Quindi posso ribaltare la frazione a denominatore che diventa un prodotto per due terzi. La nostra f elevata alla tre mezzi diventa la radice di f alla terza più c. Ultimo esercizio. Vediamo adesso di affrontare come funzione integranda x elevato alla terza fratto la radice di 1 meno x all'ottava in dx. Perfetto. Adesso che avete imparato a vedere le radici come delle potenze verrebbe da fare esattamente quello che abbiamo fatto nell'esercizio precedente. Quindi posso vedere la radice di 1 meno x all'ottava come la potenza alla un mezzo e cercare di utilizzare f primo fratto f alla n. Questa è la prima idea ma se devo derivare quello sotto radice e averlo a numeratore la derivata di x all'ottava non è x alla terza quindi c'è qualcosa che non va. Non che la radice non possa essere vista come una potenza ma io sopra non ho la derivata di quello che c'è sotto la radice. Però se prendiamo l'altra formula che prende una radice con un 1 tra l'altro basta vedere l'x all'ottava come un x alla quarta elevata al quadrato. Quindi a questo punto il mio x alla terza numeratore non è altro che la derivata quasi del nostro x alla quarta. Basta moltiplicare per 4 il numeratore mettere un quarto fuori e a questo punto proprio la formula che volevo. Il risultato sarà un quarto per l'arco seno di x alla quarta più c. So che avevo detto che era l'ultimo ma mi è venuto in mente di mostrarvi un'ultimissima cosa. Se io ho questo esercizio 1 fratto la radice di 1 meno 9x alla seconda e 9x alla seconda mi sembra proprio il quadrato di 3x non demoralizzatevi se sopra avete un 1 perché ragazzi la derivata non la dovete fare della parte al quadrato ma della f e in questo caso la nostra f 3x come derivata al numero 3 che può sempre essere aggiunto al numeratore basta moltiplicare sopra per 3 mettere un terzo fuori e questa è proprio la formula che abbiamo visto prima. Quindi sono proprio di fronte ad avere un terzo che moltiplica l'integrale di f primo fratto radice di 1 meno f quadro e quindi un terzo per l'arco seno di 3x più c. Perfetto ragazzi giuro che ho finito non faccio più esercizi provate a fare tanti di questi esercizi vedrete che dopo un po' ci prendete gusto. Ultima osservazione ci sarà un criterio per integrare funzioni di questo tipo il metodo della sostituzione che permetterà di risolvere questi integrali senza sapere le formule degli integrali immediati generalizzati ma secondo me se imparate a guardare la funzione integranda troverete queste formule più immediate una volta che avete capito come usarle sono più comode rispetto agli altri metodi. Ripeto a parer mio vi lascio comunque qui sotto nel primo commento il link del metodo dell'integrale per sostituzione che comunque trovate anche nella playlist degli integrali. Vi saluto se avete problemi iscrivetemi iscrivetevi al canale continuate a seguirmi e vi auguro buona matematica. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori.